Fare fuori tuiac dalla corsa alle regionali. Potrebbe essere questa la ragione vera dell'irrigidimento di Pierpaolo Roberti nei confronti del già ex capogruppo del Carroccio in Consiglio Comunale, finito nei guai all'interno del partito dopo l'uscita infelice sul nuovo nome della sala matrimoni, ultima in vero di una lunga serie. In apparenza, Lucase, emesso ieri dal segretario provinciale leghista che ricopre anche il ruolo di vice sindaco, intende colpire anche Danilo Slokar, esponente storico del partito, che non sembra molto preoccupato di quella che sarà la sua sorte giovedì prossimo, quando un direttivo leghista metterà nero su bianco le decisioni del vertice. Tanto che qualcuno intravede nell'uscita di Slokar un assist allo stesso Roberti, magari poco apprezzato dall'interessato ma in un certo senso ugualmente utile allo scopo. Ricostruendo le origini della faida interna alla Lega, risalire a quanto accaduto lunedì sera in Consiglio Comunale potrebbe avere un senso soltanto se si accetta la versione ufficiale, ovvero la proposta da parte della Lega di cambiare il nome alla sala matrimoni dopo la decisione presa dal sindaco in persona di destinarla anche alla ratifica delle unioni civili come in sostanza richiesto dal TAR di Brescia. Lo stesso discorso varrebbe anche se si volesse inquadrare tutto ciò come una sorta di ripicca da parte del carroccio per quella che l'estrema destra in Consiglio potrebbe aver visto come una fuga in avanti del resto della maggioranza sul caso Regeni, ovvero la decisione di partecipare alla manifestazione di ieri per ricordare il ricercatore trucidato con un rappresentante ufficiale dell'amministrazione cittadina. Però le elezioni regionali sono vicine, un anno e tre mesi rappresenta un tempo politico infinitesimale, uno scranno in piazza Oberdan fa gol a molti e Fabio Tuia che si è rivelato la scorsa primavera un formidabile uomo di preferenze capace di entrare in Consiglio regionale a furor di popolo, a danno di altri ovviamente, per cui meglio approfittare della prima occasione oppure appunto dell'ultima di una serie per ridimensionarlo già adesso. Sempre che a togliere le castagne dal fuoco non entra in scena la prefettura. Sulla base di una normativa nazionale il prefetto senza sollecitazioni esterne qualora ravvisasse nel comportamento di un pubblico amministratore una mancanza di rispetto per le istituzioni potrebbe destituirlo dal suo ruolo, di fatto rendendone impossibile ogni ulteriore qualsivoglia candidatura.